Il turismo non galleggia, sfonda, cioè quindi sulla capacità di produrre una politica sul turismo, scordinamento tra i diversi enti, noi proponiamo appunto, e lo proponiamo alla Prefettura, quello di organizzare un incontro in cui ci stanno tutti i protagonisti del centro, delle attività commerciali in maniera tale che non ci sia più scollamento tra Aralambita e si dice no, è colpa dello Comune che non mi sa più organizzare, lo Comune dice ma tu non mi hai ripesato. Siamo stanchi di questa situazione e dobbiamo produrre il meglio possibile per le attività commerciali che insistono nella nostra città. Perdere 10 euro di un turista che si viene a setta a un bar è oro, secondo me al giorno d'oggi è oro e noi non lo dobbiamo perdere, questo è il mio modesto punto di vista e lo dico con le parole di chi appunto ogni giorno segue i disgrazi. Noi come operatori vogliamo solo che arrivano i turisti, poi ci pensiamo noi come curarli nella migliore modo possibile. Per questo ho anche inteso, come si può dire, un attimino...